Mio padre rapito e spogliato di ogni suo avere, che ha abusato di lui mi faccia sapere dov'è il suo cadavere, almeno per potergli dare una degna sepoltura. Intanto le forze dell'ordine non archivino il caso. Questo è il drammatico appello lanciato da Annunziata Sorrentino, la figlia di Bartolomeo Sorrentino, il 79enne ex carabiniere di Monteforte Irpino scomparso il 17 agosto scorso da una casa di riposo in provincia di Avellino mai più ritrovato. L'anziano, ricorda Annunziata, sulla pagina Facebook si allontanò dal centro presso il quale era ricoverato durante un cambio di turno. Secondo una testimonianza certa fatta ai carabinieri da notista di linea, è sceso in piazza Kennedy ad Avellino, poiché le telecamere di sorveglianza erano però inattive. Da diversi mesi non è stato possibile stabilire quale direzione abbia preso o come teme la donna se sia stato prelevato da qualcuno. Questa ipotesi, ribadisce Annunziata, sarebbe la più valida in quanto si è scoperto che una coppia di giovani, in seguito all'assenza di mio padre, vivaccava di sera a casa sua. Purtroppo, denuncia la figlia dello scompasso, mio padre è stato raggirato da queste persone e spogliato dei suoi risparmi e della pensione che spariva dopo pochi giorni. Una vicina avrebbe anche visto la coppia tentare di entrare con le chiavi della porta dell'abitazione dell'anziano, ma fortunatamente aveva provveduto a cambiare la sedatura, denuncia annunziata, e comunque aggiunge la donna. La casa è stata saccheggiata, portati via oggetti appartenenti a me e mia madre, defunta, senza farmaci salva vita. Mio padre non è più in vita, è sorto questi esseri mondi a comunicare dove sia mio padre per potergli dare una degna sopportura. Chissà può chiamare il numero sopraimpresso sulla foto, o con un biglietto in forma anonima da inviare all'indirizzo di Bartolomeo Sorrentino in via Valle 2 a Monteforte. Questo non servirà a pulire la vostra coscienza, ma almeno mettere la parola fine a questo incubo che dura da un anno e di dare moda a una figlia che vive nel dolore di potersi rassegnare. Mi auguro che il messaggio arrivi a chi di dovere, conclude annunziata Sorrentino.